Adesso continueremo con la visione di alcuni cortometraggi di Free Tribe. Allora, vedremo il cortometraggio, in realtà è un videoclip, sono 90 secondi, Abitare l'attesa, realizzato da Antonio Futri e Mauro Boles, che ha vinto l'anno scorso l'edizione di U-Tribe, che è un concorso per i video che abbiamo fatto con Free Tribe. Poi andremo avanti con il trailer che è stato recentemente realizzato del corso di formazione per aspiranti stalker. Abbiamo partecipato lo scorso 25 novembre al concorso contro la violenza sulle donne, il cortometraggio aveva vinto il concorso, abbiamo realizzato sempre Mauro Boles e Antonio Futri, hanno realizzato il cortometraggio, poi per chi volesse il titolo è il corso di formazione per aspiranti stalker, potete vederlo per intero su Youtube. E infine, l'ultimo è un cortometraggio, un documentario in realtà realizzato nel 2006, Free Tribe ha avuto la prima, la terza, eravamo ormai alla terza edizione di Free Tribe nel 2006, ed è stato il primo anno in cui l'abbiamo fatto alla piste della politica. Quindi abbiamo documentato tutto quello che è il festival, sono 22 minuti, è un po' più lungo, ma racconta per intero che cos'è il festival, che cosa rappresenta il festival. Questi sono i tre cortometraggi che andremo a vedere ora. Allora, basta.